Finalmente Ciao ragazzi e auguri di buon Natale a tutti Innanzitutto voglio ringraziarvi perché questo video ha superato nel giro di pochissimi giorni le 100.000 visualizzazioni Che per me è un risultato a dir poco incredibile, grazie a tutti Ma ora, perché un semplice vlog nella durata di pochi secondi registrato in auto con mezzi di fortuna il mio smartphone Ha raggiunto un traguardo simile? Me lo sono chiesto E in quel video parlavo della mia disavventura con i servizi bancari di poste italiane Che mi hanno sostanzialmente lasciato al verde per una giornata intera E in tanti di voi si sono ritrovati nelle mie parole A quanto pare infatti il circuito bancario di poste non è nuovo a questi disagi Infatti pochi giorni dopo la storia si è ripetuta nuovamente Ma a quanto pare non solo per quanto riguarda poste ma persino altri circuiti bancari molto importanti Hanno avuto non pochi problemi Lasciando in tanti se non al verde con molti problemi di pagamento E leggetevi i commenti del mio precedente video per farvi un'idea del casino, del caos che è successo Al che ho pensato? Beh facciamone un video dedicato e cerchiamo di capire la mia community Cosa ne pensa della moneta digitale? Perché sì ragazzi di questo stiamo parlando Di carte di credito, carte di debito, conti correnti Insomma il nostro denaro che è sempre più virtuale piuttosto che reale Cosa voglio dire con virtuale? Voglio dire che i nostri soldi fluttano un po' nel digitale E sono in un server Se questo server crasha, se ci sono problemi come è successo pochi giorni fa con poste e con altri servizi Noi rimaniamo per minuti, ore, giorni senza la possibilità di poter utilizzare contante Se non magari andando a uno sportello, se si trova aperto, ritirando soldi alla vecchia maniera E non è sempre fattibile perché in molti come me utilizzano lo smartphone per effettuare i pagamenti Fanno tutto con il telefono e forse non è la scelta più saggia Perché io sono rimasto davvero in mutande ragazzi per un giorno intero E a quanto pare non solo io In tanti nel mio precedente video mi hanno munito dicendomi Michele ma tu devi portarti con tanti dietro, non puoi pensare di andare in giro solo con una carta ricaricabile Beh forse è vero, diciamo che qualcosa me la sono portata presso in contanti Ma portarsi dietro tanti contanti non è al tempo stesso sicuro Se ti rubano 500 euro dal portafoglio difficilmente li avrai indietro Se ti rubano 500 euro dalla carta si può bloccare e in qualche modo si possono ottenere indietro i soldi Quindi ci sono pro e contro di ogni cosa ragazzi Io per quanto mi riguarda tendo a ricaricare la mia carta ricaricabile ogni giorno in base a quello che mi serve E poi uso quei soldi senza portarmi dietro più del necessario Ma ovviamente non tutti siamo uguali e quindi mi piacerebbe discuterne insieme a voi ragazzi Secondo voi il contante digitale che non è fisicamente nelle nostre mani Ma che è in un server chissà dove Che potrebbe venire meno da un momento all'altro Beh questo è il futuro ragazzi oppure no Avete mai vissuto delle disavventure che vi hanno portato a non poter disporre del vostro contante digitale per giorni interi Parliamone qui sotto nei commenti ragazzi Dite la vostra Vi auguro ancora buon Natale e buone feste Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video Sempre che voi vogliate Sempre qui su Addictest2Tech Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi